Ciao ragazzi sono Grax e bentornati su Clash of Clans Amici, quest'oggi episodio farming Purtroppo episodio molto molto triste Perché siamo di nuovo senza Grax sorvegliante Non ho nel libro degli eroi e non vorrei spendere 440 gemme per gemmarlo Quindi ci tocca fare 3 attacchi senza Mago Merlino Ve lo ricordate no? Quello che è successo senza di lui? Delirio, fail malissimo, meglio passarci sopra Potrei utilizzare la pozioncina dei costruttori, ne ho 2 Quindi un boost di 20 ore Su 2 giorni e 11 ore non ci facciamo niente Magari però l'andremo ad utilizzare comunque quando andremo a sfruttare il quinto muratore Vi consiglio di seguire tutto il video e ho già controllato il sondaggio Grax oggi super attivo e lo sapete che vi dico? Prima di tutto, prima di qualsiasi cosa attivo anche la pozioncina verde Cioè fermi, solo per questo 10.000 pollicioni all'insù Grazie a tutti per il supporto Grazie anche per il supporto del precedente video Un disastro di like, siete fantastici voi di Clash Tornando alla difesa ha vinto l'arco X A livello 5 con tipo il 90% devastando tutto il resto Il piccolissimo problema è che costa 9 milioni e mezzo Dobbiamo quindi farmare Prima di tutto ci prendiamo al volo una missioncina dei giochi del clan Piuttosto deludenti Dopo un giorno già siamo a 35.000 punti Li abbiamo finiti Ma a noi non ci interessa, continuiamo a fare punti Che cosa possiamo prenderci? Magari quella degli eroi 125 livelli Sì ci può stare Iniziata e andiamo a fare subito il primo attacco Nessun evento da completare Attacchi free Primo attacco, due stelle per il bonus stella Voglio un 500.000 Potentissimo Ok, fermi tutti Che al terzo skip ho trovato il mondo Messa la Queen Attenzione che devo piazzare subito i guaritrici Le guaritrici Tac Uno, due, tre, quattro Messe tutte e quattro Spacchiamo il cannone E cerchiamo di far andare la Queen No Queen, no No Queen, non farlo Queen, non sei pronta Vai verso sotto, please Distruggi il deposito di Elisir La Dora è stregone E ti aspettiamo nella parte bassa del villaggio Ottimo così C'è un arco X scarico Che potrei far fuori magari con un maghetto Forse due Esattamente Un golem qua Messo male Vabbè, sono dettagli Qualche spaccamuro Bello tattico E cerchiamo di far entrare anche gli altri King messo Le valche Aspettiamo prima i bocciatori Nel castello abbiamo giganti Buttiamo tutto Perché questa base mi sembra abbastanza interessante Tutte le valche messe Abbiamo anche le pozioni Una furietta Cista di tranquillità Boni perché ho i domatori E quando abbiamo i domatori Il 100% È assicurato anche senza il Grax Sorvegliante Distrutte le torri infernali Scariche Non è un problema C'è un buon push sulla destra I curatori stanno curando Le valchirie Va bene Il king ci sta per lasciare le penne Ho attivato l'abilità E questo attacco Non sta andando benissimo Questo attacco sta andando piuttosto male Tutti i miei attacchi vanno male Poi riesco a tristellare Non so come Questo è un dato di fatto Però con i domatori Possiamo cercare di riaddrizzare il colpo Magari mettendoli Ora da questa parte Distruggendo Tutte le difese esterne I domatori al 6 Picchiano come se non ci fosse Un domani Distrutte tutte le difese sopra Rimangono Un paio di cannoni La torre di leceri Che è andata giù adesso Torre dello stregone Torre bombardiera 100% Abilità Della Queen Oh yeah 100% fatto Facciamo così Mi invento l'evento di oggi Dobbiamo fare 3 tristellamenti Senza Gandalf È difficile Ma ce la possiamo fare Comunque Un 600.000 di oro Che ci permette di fare l'arco X Però ci lascia Ci lascerebbe Con 26 27.000 monete Poi come faccio a schippare? Praticamente con soli 27 skip Devo trovare Un 500.000 Impossibile Aspettate Ora 37.000 Ma lo sapete che vi dico Lo andiamo a fare subito 9 milioni e mezzo Invece no Fermi tutti Se faccio l'arco X Non ho più un muratore disponibile Prima la cassetta di Gemme Se a questo punto del video Non ci sono 10.000 like Siete scorretti Ho fatto tutto Mi sono ricordato tutto Impossibile Imposta il volo del terzo esercito Gemme prese Esercito impostato Arco X Livello 5 9 milioni e mezzo Abbiamo prosciugato tutto Ora con 38.000 Probabilmente 38.000 e mezzo Devo trovare un 500.000 Non ce la farò mai Proviamo Questi skip peseranno tantissimo 200.000 lo skip Sto attaccando con pecca e streghe Un attacco molto interessante Già siamo al terzo 126.000 che è schifo Quarto Amici Ultimi 5 skip Saranno determinanti 100.000 fa schifo Giriamo ancora Please Qualcosa interessante Ti prego Clash of Clans Si clemente 346 no 340.000 no Ultimi 2 Non è possibile Poi come faccio Avrei un asso nella manica Ma spero di trovarlo qui All'ultimo skip No Bruttissimo questo Niente fratelli Ci ho provato Ma è andata molto molto male Ci prendiamo la tesoreria E quindi Ora con 260.000 Ce la possiamo fare Ed eccolo qua Dopo 5 skip Io non ho parole Questa volta Attacchiamo Dove Dalla parte Della queen Qua in alto Secondo me No 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 Fermi tutti Attacchiamo qua Con tutta tranquillità Perché non abbiamo il grax sorvegliante Quindi non voglio assolutamente Failare Se la queen va sopra Mi arrabbio No queen vai sotto Sempre sotto Devi andare In questo modo Riusciamo a supportare Tutto il push Fatto di golem Molto molto carino Questo golem Vado di due maghetti Non abbiamo purtroppo Altri maghi Tutte le quiche Un pecca qua Uno lo metterei qui sotto esterno E uno deve entrare Olè Spaccamuri Bellissima Quella queen Che distrugge la difesa aerea Meglio di così Non si può Attacch King Entriamo malissimo Supportiamo il tutto Con una furia Ci metterei anche una cura Ma per il momento Possiamo anche aspettare Tipo quando entrano Leggermente più all'interno E soprattutto Quando comincia a targettare La torre infernale Questa è una cosa fondamentale Ci sono anche una marea di tesla Da distruggere Per fortuna La queen all'interno La queen ci aiuterà tantissimo La prima tesla va giù La seconda Non ancora Ora la seconda Adesso Ma quella che mi sta mettendo abbastanza paura È la torre infernale Com'è possibile Che non è ancora Ok si è scaricata Va bene Va bene Ok Ora tutto torna Il king con una cura È ben supportato è ben supportato in alto Credo che si tratti di un 100% Oh yes Con questo mini goblin Ci prendiamo l'estrattore Non è vero Perché la torre degli aceri Ha targettato Ma non è un problema Ci sono ancora esattamente 1-2 pecca Il king con uno spudacchio di vita Bombone gigante 90% E questo attacco è molto meglio del precedente Quasi 650.000 di risorse 1 ora Ovvero l'equivalente di 10 ore Vorrei anche dirvi cosa farò con l'elisir Il problema è che non ho più cose da fare con l'elisir Solamente mago merlino Però mago merlino già impegnato Possiamo sfruttare il libro degli incantesimi Per liberare il laboratorio E fare magari la pozione della clonazione Giusto per sprecare 8 milioni di riser Secondo me come il ragionamento ci sta Il king è tornato Via Si vola Ultimo attacco Voglio un altro inattivo Potentissimo No vabbè regà 540.000 547.000 Ma oggi cos'è? Inattivi assurdi Nel frattempo sta passando troppo tempo Abbiamo solamente 2 minuti e 20 per tristarlo Sarà un problema Messi tutti i maghetti Devo sbrigarmi Vado con gli spaccamuro Abbiamo una strategia interessante Con i minatori e domatori Per andare nello stretto Ci sta Tutti i minatori messi Olè Le mungolfiere anche Perché qua sotto non ci sono difese aeree Vado con i domatori No non ancora Magari il castello che contiene domatori King al volo Una bella pozione della furia Non messa Ok adesso l'ho messa Una cura per supportare Quei domatori al centro Dato che c'è una bombardiera abbastanza minacciosa E per il momento ce la stiamo Cavanda abbastanza bene Messi alcuni domatori Lì in basso a sinistra Ne mettiamo in basso a destra Altri 4 Li supportiamo con una cura Ma che cura ho messo amici Che cura sto mettendo Non ho assolutamente paro L'attenzione alla queen che sta andando giù E tutto quanto strettissimo Non sono sicuro di riuscire a farlo amici Non lo so Forse è un fail Dipende tutto dal king La queen ancora intatta E 4 domatori Boni come il pane Grazie domatori di esistere Abilità del king rapidissima E ce l'abbiamo fatta Un minuto Quasi preciso Per pulire tutto Sarà tosta Ma ce la possiamo fare Distrutto l'estrattore in basso Tutti su Tutti su Velocissimi Due estrattori E due miniere da prendere Dobbiamo prenderle Assolutamente Distrutto l'estrattore Spacchiamo gli accampamenti Con i domatori E abbiamo fatto Il terzo Tristellamento Senza mago merlino Lo portiamo qui nel cuore Mago merlino Ci manca un sacco Ma ti abbiamo sostituito Degnamente 540.000 Siamo arrivati a 660.000 670 Delirio Solo bottini OP Nella serie farming Di Grax Bonus stella completato E ovviamente Ho anche sprecato Elisir Ma non facciamoci caso Dai Richieda al volo il castello Imposto l'esercito Che poi utilizzerò per farmare Nel frattempo Me l'avvantaggio E è arrivato il momento Di boostare La pozione congelamento Con il libretto Tac Potenziata L'abbiamo A livello 6 Livello max Via di pozione Colonazione Come bruciare 8 milioni Dobbiamo farla Quindi la facciamo Finito E niente amici Fine dell'episodio Tutte le risorse Più o meno spese Tutti i muratori impegnati Non dobbiamo fare nient'altro Vi ricordo Un bel pollice All'insù Commentino qui sotto Noi ci vediamo domani Con Fortnite To Clash Royale Non lo so Mi devo ancora organizzare Un saluto Un abbraccio A Grax Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti